ma eh io vorrei andare oltre sinceramente insomma eh misera oltre insomma penso che sia l'unico episodio da cittadini in questa partita eh ormai purtroppo non ci ritorna nulla indietro eh sarà chi di dovere che andrà a segnalare l'eventuale errore dell'anno io voglio concentrarmi invece su quella che è stata la partita dei ragazzi secondo me una partita importante hanno hanno avuto un piano gara secondo me molto buono e e meritavamo assolutamente qualcosa in più insomma eh la squadra ha saputo stare in campo abbiamo cambiato anche qualcosina sulla fase di non possesso cercando di essere un po' più aggressivi e la squadra stava facendo bene abbiamo avuto le nostre occasioni affrontavamo una squadra forte ma penso che lo sia stato anche il Pescara e e al secondo tempo addirittura in dieci uomini ha saputo fare una gara completamente diversa mai provata fino ad oggi quindi sono stati bravi ragazzi a rimanere compatti e a crederci fino alla fine poi questa la la lasciamo alle spalle resta assolutamente la prestazione e da qui dobbiamo ripartire lunedì perché ci sono ancora undici partite e questa squadra è fortemente viva grazie a Donia buon poveriggio massimo profeta rete otto sport sono d'accordo con lei eh bisogna tenersi la prestazione che è stata sicuramente positiva e la pescare è rimasto in partita sebbene in dieci uomini per oltre un tempo sino al fischio finale di la penna mh dico solo arbitraggio inadeguato però voglio andare oltre eh proprio per 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 sostenere quello che stava dicendo si può ipotizzare da qui in avanti una difesa a quattro visto che comunque la squadra ha dato delle indicazioni molto positive sotto questo profilo sì ma l'aveva date lo stesso a cinque ripeto eh noi in questo momento stiamo portando avanti un discorso tattico la squadra lo sta facendo veramente bene e ha dimostrato perché come dico sempre come ho detto sempre questa è una squadra che ha qualità è ritornata fortemente a credere in quello che fa oggi forse l'unico appunto che posso fargli che non abbiamo avuto un grande approccio alla gara i primi cinque sei minuti e ma nonostante ciò voglio dire la squadra è stata sempre in partita è arrivata tante volte al cross potevamo sicuramente rifinire meglio alcune situazioni dove sono stati bravi ragazzi a liberarsi e ecco scusi mister come lo immaginava l'approccio per capirci bene ma lo immaginavo un pochettino più 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 duro abbiamo perso l'unica volta che abbiamo perso il perso il loro play poi hanno creato l'occasione di rigore lì dovevamo fare un qualcosina di diverso e lo sapevamo e in serie B non puoi distrarti un attimo anche perché poi ripeto a fronte squadre di qualità e quando imposti una partita in un certo modo devi essere bravo a portarla fino in fondo andando a sacrificarti il più possibile non devi distrarti un attimo oggi l'abbiamo fatto e la spalla su quella situazione là ci ha punito poi c'era non c'era ripeto eh chi di dovere giudicherà per me sarebbe troppo facile andare a puntare il dito e non mi piace accampare voglio dire scuse o alibi la squadra ha fatto quello che doveva fare ha dimostrato di crederci fino alla fine ha lottato ci crede e viva e guardiamo avanti a lunedì e non vediamo l'ora di iniziare gli allenamenti grazie a tutti grazie a tutti per quanto riguarda drudi penso che ogni commento sia superfluo insomma sbagliato è grande vaccinato poi quello che ci diremo lunedì resterà all'interno degli spogliatoi ma ha fatto una grande sciocchezza per quanto riguarda la seconda domanda è una squadra che ci sta lavorando per arrivare perché i movimenti che riusciamo a creare sono dei movimenti che liberano comunque gli uomini poi dobbiamo essere bravi ad andare ad attaccare gli spazi i ragazzi ci sta mettendo l'anima è chiaro che bisogna continuare a lavorarci perché non bastano forse dieci giorni di allenamento se contiamo voglio dire le rifiniture le partite addirittura la settimana scorsa abbiamo giocato l'infrasettimanale sta crescendo di partita in partita poi chiaramente va ottimizzato il tutto però la squadra ha un'identità ben precisa e deve migliorare su tante su tante situazioni ma la strada è quella giusta il tempo purtroppo è poco ma la squadra deve crederci in assoluto inserbo una sera allora le volevo chiedere per quanto riguarda la fase offensiva perché questa è una squadra che ha dimostrato anche oggi che le partite comunque le sa tenere in equilibrio e anche dopo lo svantaggio abbiamo già parlato comunque siamo riusciti a stare in partita e io ho visto forse mi correga se sbaglio ci siamo alzati un troppo tardi come linea difensiva per essere un po' più chiaramente in dieci immagino difficoltà per essere un po' più eh pericolosi davanti e infatti negli ultimi cinque minuti comunque sono arrivate tre situazioni non clamorose ma sicuramente pericolose forse questo è anche un po' mancato sentivo anche lei che cercava e diceva la squadra di salire un po' perché rimanendo lungo con la linea centrale bassa e gli attaccanti e due attaccanti davanti probabilmente è mancata questa questa concentrazione di uomini per essere un po' più pericolosi ma io penso che la squadra al secondo tempo ha fatto la gara che doveva fare insomma ci siamo abbassati era quello l'indirizzo di abbassarsi sotto sotto linea palla soprattutto con le due punte la spalla è una squadra che palleggia benissimo e quindi sapevamo di dover rimanere compatti fino alla fine perché l'occasione ci sarebbe capitata e io conto l'occasione di gutte l'occasione di seterre l'occasione di rigoni il colpo di testa di scognamiglio galano che voglio dire è stato anticipato all'ultimo e era quello il piano gara e rimanere in partita fino alla fine abbiamo lavorato su una linea quattro che non l'abbiamo mai toccata in questo momento abbiamo corretto un po' la posizione di Bellanova e Masciangelo perché chiaramente non giocando più a cinque dovevano essere bravi a ricreare la superiorità numerica sui due attaccanti e la squadra ha fatto quello che doveva fare credendoci fino alla fine abbiamo cambiato soprattutto il centrocampo perché c'era grandissimo dispendio di energie quindi abbiamo messo gente dentro che ci potesse dare energia diversa abbiamo cambiato l'ultimo quarto d'ora galano con con odgaard perché odgaard aveva speso molto in quel momento aveva bisogno di un palleggiatore come galano che sulla qualità si facesse dare palla nei piedi per poi innescare gli attaccanti e quindi cambiare un po' la struttura davanti abbiamo fatto tutto quello che era le nostre possibilità i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare e quindi io sinceramente sono molto critico nei confronti dei ragazzi oggi mi sento di fargli i complimenti ma in assoluto invito loro e gliel'ho detto già a fine partita a credere a credere nella salvezza perché questa squadra è viva e può solamente crescere di partita in partita mi dispiace molto e sottolineo molto per l'ingenuità di Drudi perché non non è ammissibile una roba del genere e perché si rischia voglio dire di di complicare ancora di più la situazione ma nonostante questo la squadra ha reagito alla grave se scusi parlava di galano la intriga galano in quella posizione in cui l'ha schierato quindi tra le linee cercando anche un po' di essere un po' il il fluidificante della manovra contro tutto quando la palla passa per vie centrali sì Christian è un giocatore che conosco l'ha fatto con me in passato a Foggia è chiaro che conosciamo le caratteristiche di Christian quali sono e certamente con con questo modulo non lo esaltiamo del tutto però è un calciatore che sta ritornando visti i problemi che ha avuto alle caviglie adesso lavora meglio lavora meno sul dolore e ci tornerà utile come ci sono tornati utili tutti coloro i quali chi ha partita in corso e chi dall'inizio sta cercando di mettere dentro minutaggio io mister se posso vado un po' in controtendenza rispetto a quello che l'ha detto poco fa vedendo le statistiche sono arrivate poco fa il pescara ha tirato una sola volta in porta al netto insomma dell'uomo dell'uomo in meno però io credo che è un dato secondo me che fa un po' fa un po' insomma tira su le antenne sul fatto che i cambi questa volta non le hanno dato praticamente nulla cioè questa è una squadra che lei ha dato una certa identità e questo è un suo merito però chiaramente dalla panchina finora ci sia è arrivato pochissimo secondo me Seter non sta benissimo e in condizioni ma anche altri giocatori anche quelli più esperti probabilmente in questo momento dovrebbero dare o perlomeno provare a dare qualcosa in più non so se d'accordo Seter è rientrato è rientrato ad allenarsi con noi mercoledì mi riferisco anche agli altri cambi e gli altri uomini che mi ha messo è ritornato ad allenarsi con noi eh da pochi giorni il mio musciai eh sta cercando di rientrare in condizione ma cin sta spingendo molto sull'acceleratore i suoi progressi sono importanti così come maestro è chiaro che oggi i cambi voglio dire sono entrati tutti sul sul sulla superiorità numerica della spalla hanno fatto quello che dovevano fare ripeto io continuo a dire che questa squadra attraverso il lavoro deve migliorare e sabato ce la andremo a giocare a Portenone con le nostre certezze cercando di limitare gli errori sempre di più posto